Andiamo a Firenze, ora per Fiorentina Spal con Sara Meini. E buona domenica a tutti voi, anche da Firenze sarà uno scontro salvezza qua al Franchi, una gara importantissima per entrambe le formazioni nella prima partita del 2020. La Fiorentina ha sfiorato la vittoria a Bologna facendosi recuperare nel finale da una perla di Orsolini. La Spal invece ha vanificato la vittoria dell'ultima gara del 2019 in casa del Torino perdendo in casa con il Verona proprio nell'ultimo turno di campionato e tornando così in ultima posizione in classifica. Le formazioni perché ci sono delle novità soprattutto per quello che riguarda la Fiorentina perché giocherà dal primo minuto Boateng mentre ovviamente il neacquisto Patrick Cutrone che è arrivato due giorni fa a Firenze si accomoderà all'inizio in panchina pronto ad entrare nel secondo tempo. Dunque le formazioni Fiorentina in campo con il modulo scelto da Beppe Iachini oggi all'esordio assoluto qua al Franchi 3-5-2 in porta Dragoschi. In difesa da destra Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulla linea mediana Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi e Dalbert e davanti giocheranno dunque Chiesa e Boateng. Non Vlaovic come si aspettava dall'inizio. La Spal risponde con il modulo scelto da un altro Fiorentino qua al Franchi ovvero Leonardo Semplici 4-3-3. In porta Beriscia in difesa da destra Cionec, Felipe, Vicari e Igor. A centrocampo Murgia, Missiroli e Valoti e davanti giocheranno Di Francesco, Strefezza e Petagna. Ci sono delle novità anche per quello che riguarda la direzione arbitrale perché avrebbe dovuto dirigere questa partita La Penna invece c'è Doveri di Roma perché La Penna si è sentito male ieri sera. È una bellissima giornata qua allo Stadio Franchi anche ovviamente su Firenze splende il sole ci sono quasi 40.000 spettatori al Franchi collaborazione tecnica di Andrea Tomacelli per il momento è tutto studio. In tribuna c'è il patron della Fiorentina Rocco Commisso che fino a questo momento non ha mai visto vincere la Fiorentina qua allo Stadio Artemio Franchi soltanto una volta ha visto i suoi giocatori guadagnare i tre punti ma era in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ricordiamo che la Fiorentina non vince al Franchi dal 6 ottobre scorso all'epoca l'allenatore era Vincenzo Montel la Fiorentina vinse contro l'Udinese. Oggi però è tutta un'altra storia perché da due partite è arrivato Giuseppe Iachini che fa l'esordio assoluto allo Stadio Artemio Franchi ci ha giocato alla Fiorentina i tifosi sono molto legati a lui ecco sul terreno di gioco l'abbraccio tra lui e Leonardo Semplici l'allenatore della SPAL che gioca ironia della sorte l'ultima sfida del girone d'andata proprio nella sua Firenze ma non c'è spazio per i sentimentalismi Firenze e si sta consultando con la VAR l'arbitro della partita Doveri la partita tra Fiorentina e SPAL è sempre sul punteggio di 0-0 ma al sesto minuto era andata in gol la Fiorentina con Boateng dopo un assist dall'interno dell'area di rigore di Chiesa ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco aveva sollevato subito la bandierina l'assistente arbitrale sotto la nostra postazione ovvero Baccini ma comunque Doveri si è affidato agli uomini del VAR che oggi sono Di Paolo e Valeriani qua allo stadio Franchi di Firenze confermata la decisione dunque annullato il gol alla Fiorentina di Boateng per posizione di fuorigioco bella però era l'azione nata dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla corsia di sinistra con Pulgar Benassi era stato il primo ad arrivare al tiro tiro parato pensate da Pezzella il difensore capitano della Fiorentina che si è trovato casualmente sulla linea di porta della SPAL da lì ha ripreso la palla a Chiesa ha provato subito il tiro che si è trasformato in un assist perfetto per Boateng però Boateng era più avanti di tutti e dunque il suo gol è stato annullato per posizione di fuorigioco ed ecco Lirola limite dell'area di rigore con il destro all'interno dell'area di rigore c'è Castrovilli tiro di piede salva la sua porta Beriscia un'azione davvero pericolosa da parte della Fiorentina un'occasione per la formazione di Iachini con un tiro di Castrovilli è stata davvero bella importante la risposta del portiere della SPAL che ha salvato la sua squadra quando siamo arrivati al 32esimo minuto non cambia il parziale 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL e la linea va a Genova continua ad attaccare la SPAL siamo sulla tre quarti campo con Igor che si arriva arriva fino all'interno dell'area di rigore il sinistro all'interno dell'area piccola si trovava Petagna che di pochissimo non è riuscito ad arrivare alla palla altrimenti staremo qui parlando del vantaggio della SPAL la palla è finita sul fondo ma era davvero ben posizionato è solo all'interno dell'area piccola l'attaccante della SPAL Petagna siamo arrivati dunque al 36esimo non cambia il punteggio 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL e la linea va a Genova linea a Firenze ancora una volta vicinissimo al gol la SPAL con un colpo di testa di Felipe quando siamo arrivati al 43esimo minuto sul punteggio di 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL è stata proprio la formazione di Semplici a mostrarsi pericolosa un cross che arrivava da Murgia da dietro è arrivato il difensore Felipe ha colpito di prima di testa ma la palla è andata di poco a lato Firenze ha colpito da pochissimo un palo la SPAL dopo un calcio di punizione battuto da Murgia ha allargato sulla corsia di destra per strefezza che ha provato subito di prima e la palla c'è il vantaggio della Sampdoria con Ianto al volo Sampdoria 2 Brescia 1 Firenze e la palla è stata fermata dal palo un tiro davvero interessante del centrocampista della SPAL che nessuno però si aspettava da parte della difesa della Fiorentina linea Firenze ha sbagliato un gol incredibile Chiesa a pochi passi dalla porta di Beriscia invece di provare con il piatto ha colpito male ha mandato la palla altissima dopo un assist ben confezionato da Vlaovic eravamo nel corso del quinto minuto ed è stata l'occasione più importante della partita per la Fiorentina poco prima invece la SPAL aveva protestato perché voleva un calcio di rigore di Francesco dopo un intervento all'interno dell'area di Milenkovic proprio sul numero 31 della SPAL SPAL che è arrivata al tiro anche in questo momento da circa 20 metri con strefezza ma ha parato senza neanche troppe difficoltà il portiere polacco della Fiorentina Pulgar ha consegnato la palla ancora una volta sulla linea del centrocampo all'avversario strefezza riparte dunque la SPAL con Petagna che però dalla corsia di destra è costretto a tornare all'indietro siamo al settimo minuto non cambia il punteggio 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL e la linea va a Genova prova a farsi vedere in avanti la Fiorentina quando siamo al 33esimo 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL ma sbaglia ancora una volta un passaggio importante è Caceres dunque riparte la SPAL che poco fa ha avuto un'altra occasione davvero importante e anche fortunosa al limite dell'area di rigore con Valotti che è stato molto bravo a superare la difesa della Fiorentina poi ha provato un incredibile colpo sotto e si trovava tu per tu con Dragoschi e la palla è finita di poco al lato ma sta attaccando ancora una volta la SPAL con Cionec che ha sbagliato però un passaggio che poteva rivelarsi decisivo per Floccari concedendo alla Fiorentina una ripartenza cartellino giallo nei confronti del numero 11 della SPAL Murgia che finisce sul taccuino dei cattivi dicevamo la SPAL al 32esimo ha protestato molto perché Valotti che era riuscito a portare avanti una palla all'interno dell'area di rigore aveva visto un tocco di mano di Milenkovic per l'arbitro Doveri però era tutto regolare quindi sono rimaste soltanto le proteste dei giocatori di Leonardo Semplici la Fiorentina sta per battere un calcio di punizione siamo all'incirca sulla tre quarti campo sta per arrivare il sinistro di Dalbert ma il gioco ancora fermo perché ci sono state delle scaramucce tra sicuramente Vlaovic e Felipe siamo al 34esimo 0 a 0 tra Fiorentina e SPAL e la linea va a Genova mentre il gioco non riprende vantaggio della Fiorentina scusami Giovanni Scaramuzzino quando siamo arrivati al 37esimo del primo tempo la Fiorentina passa in vantaggio con la SPAL il gol è di Pezzella a te Giovanni Scaramuzzino e allora la Fiorentina è passata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo assaltato più in alto di tutti all'interno dell'area di rigore Pezzella la SPAL sta protestando per un intervento scomposto di Pezzella proprio su un giocatore della SPAL ma per l'arbitro è tutto regolare e dunque la Fiorentina è in vantaggio per 1 a 0 gli applausi da parte del patron Rocco Commisso intorno all'arbitro Doveri ci sono ancora i giocatori della SPAL in particolar modo Flocari e Vicari che stanno protestando ed è rimasto a terra invece un altro giocatore della formazione di Leonardo Semplici nel frattempo però ha esultato davvero in maniera importante il capitano della Fiorentina German Pezzella che segna così il suo secondo gol nel campionato in questa stagione Sara Firenze ha provato il raddoppio la Fiorentina ma soprattutto ha provato un tocco bellissimo Cutrone con il tacco ma la palla è finita fuori quando siamo arrivati al 45esimo e ci saranno tre minuti di recupero la Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 ma aveva la possibilità per chiudere la partita invece Cutrone ha provato con il tacco e la palla è finita fuori guadagna il possesso palla il Torino Torino che conduce per 1-0 finisce la partita al Franchi scusami Giovanni Scaramuzzino la Fiorentina batte la Spal per 1-0 in gol al 37esimo Pezzella a te studio centrale boccata di ossigeno per la Fiorentina che ritrova la vittoria a Casalinga contro la Spal Sarameni e festeggia con i tifosi della Fiorentina il tecnico Beppe Iachini che è davvero felicissimo per questa vittoria la Fiorentina si salva grazie al suo capitano Pezzella e torna alla vittoria al Franchi vittoria che mancava dal 6 ottobre scorso sono felicissimi da una parte ovviamente Beppe Iachini il tecnico che ha esordito oggi allo stadio Franchi davanti al suo pubblico e il patron Rocco Commisso che fino a questo momento non era mai riuscito a vedere la sua squadra vincere nel suo stadio sconfitta pesante invece per la Spal che continua ad essere ultima in classifica in bilico a dir poco il tecnico Leonardo Semplici e dunque grazie all'assistenza tecnica di Andrea Tomacelli ricordiamo il finale dallo stadio Franchi Fiorentina batte Spal 1 a 0 in gol al 37esimo del secondo tempo German Pezzella studio